Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video su Miraculous Love. Oggi, visto che è Pasqua e intanto ve l'auguro, andremo a aprire l'uovo di Miraculous della Kinder, gran sorpresa. Naturalmente quando l'abbiamo trovata al supermercato siamo state felicissime perché è una cosa strana che una marca come la Kinder faccia l'uovo di un cartone come Miraculous. Quindi ragazzi andiamolo a vedere, ma prima vi volevo far vedere una sorpresa di un altro uovo di Miraculous, perché praticamente ne abbiamo presi due della Kinder e questo sarebbe il secondo, ma il primo l'abbiamo già aperto perché non ce la facevo io a non aprirlo perché sono troppo volosa e il cioccolato è naturalmente buonissimo, ma vi faccio subito vedere la sorpresa. Nel primo uovo ragazzi ho trovato questa Ladybug bellissima, che ha già questo piedistallo, strano, vedete? E' fatta molto bene, devo dire, anche la faccia, cioè i dettagli comunque ci sono, vedete? Cioè è fatta bene, è fatta bene la maschera, il vestito, poi cioè se la toccate è tipo una sensazione, cioè si prova tipo una sensazione stranissima perché è tipo tutta, fatta in una plastica molto strana, cioè veramente carina, naturalmente il piedistallo si può staccare e ci si può rimettere, naturalmente. E quindi, però, ragazzi, insieme a questa Ladybug, io pensavo di trovarci uno sfondo con la Torre Eiffel, non lo so, o qualcosa, però praticamente ho trovato un pezzo della camera di Marinette che sarebbe questo. Allora, ho trovato questo coso qua, cioè è tipo un pezzo della camera di Marinette dove c'ha lei il suo, come si chiama, manichino, il suo letto, tutto adesivo, naturalmente, cioè è tipo una parte della sua stanza e questo specchio che comunque funziona davvero. Vedete, ragazzi? Ciao! E, ragazzi, praticamente abbiamo trovato queste due cose insieme al Ladybug nel primo uovo e quindi, ragazzi, speriamo che nel secondo di non trovare un doppione perché sennò veramente io mi arrabbio perché non amo i doppioni negli ovidi e non so se vi ricordate il nostro video in cui avevamo aperto le uova sempre, Kidder, Di Miraculous, ma quelle piccoline. Io sì, lì era veramente andata fuori di me perché dà la rabbia. Comunque, andiamo ad aprire il nostro uovo. Il nostro uovo. Ah, e guardate, ragazzi, ho una finestra vicino, guardate che con la luce del sole, guarda che figo. Fantastico, bellissimo questa cosa. Vabbè, quindi, ragazzi, andiamolo a aprire e vi faccio vedere subito qual è la sorpresa. Ragazzi, qua c'è la nostra immagine, ma adesso non ci interessa. Buttiamola via. Benissimo. Fantastico. E andiamo a cosare questo bellissimo uovo di cioccolato Kinder. Quindi, ragazzi, uno, due, tre. Perfetto. Sono bravissima a spaccare le uovo di cioccolato. Quindi, andiamo. Bellissimo. Allora, andiamo ad aprire. Aiuto. Il casino del cioccolato. Quindi, il cioccolato lo lascio qua, anche se in realtà dopo lo mangerò. Mettiamolo qua al cioccolato. E però, andiamo ad aprire quello che in realtà ci interessa veramente, cioè la sorpresa. Quindi, ragazzi, incrociamo le dita, le incrocio tutte, perché non ci venga un doppione. E andiamo ad aprire questa bellissima sorpresa. Mamma mia, che rumore. C'ho una paura, ragazzi. Cos'è? No, no, ragazzi, è qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso. Oh, mio Dio. Via questo, via questo. Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Cosa? Cosa? Cosa diamine? Cosa? Oh, mio Dio, c'è anche chicchi. Bellissimo. Ma cosa diamine è sto coso? Che è sto... Che è sto robo, figlioli? Che è? Che cos'è? Non capisco, figlioli, non capisco. Apriamolo subito al volantino, perché non sa cosa capire sia. Bellissima questa foto. Praticamente è tipo Ladybug con una specie di paracadute. Sì, tipo un paracadute. Vabbè, qua ci sono le istruzioni come montarlo. È tipo Ladybug con un paracadute. Sì, è Ladybug con un paracadute. E c'è anche chicchi con le antenne che si sprecciano a forma di cuore. Una cosa molto, molto carina. Meno male, ragazzi, che non c'è uscito un doppione. Se no, mi vedevate sclerare da tutte le parti. Quindi, ragazzi, montiamola. Allora, benissimo, ragazzi. Questa cosa è montata. Almeno, cioè, no, scusate. Mi sa che dovrei girarlo. No, non si gira. Perfetto. Vabbè, ragazzi, eccolo qua. Allora, ci dovrebbe stare. Allora, ragazzi, veramente è bellissima. E vedo a quanto fare. È tipo una specie di porta chiavi, questa cosa molto, molto carina. Veramente, ragazzi, la adoro. Quindi, ricapitolando. Oggi siamo andati a aprire l'uovo di Miraculous con il cioccolato. E la sorpresa, ragazzi, è stata questa. Scusate un pochino per il disordine, ma è così, eh. Comunque, quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella e condividete il video con tutti i pateti di Miraculous che conoscete. E, naturalmente, fateci sapere giù nei commenti se anche voi l'avete comprato e quali sorprese avete trovato. Ciao! Ciao! Grazie.